Amici della Serie D, tifosi del Roma City, un caloroso benvenuto dall'Eriano Athletic Center dove oggi vi racconteremo la sfida tra Roma City e San Benedettese valida per la 27esima giornata del Girone F del campionato di Serie D Squadre schierate sul cerchio di centrocampo mentre rimomba l'inno nazionale italiano sul campo Ora un minuto di raccoglimento e poi andremo in cronaca Inizia in questo istante la sfida con la San Benedettese che può giocare il primo possesso palla del match un punto solamente di distanza tra le due squadre in classifica che oggi si giocano tantissimo, attenzione alla Roma City che attacca, l'imbocata è buona Rasi palla dentro, il tiro alto, chance colossale per il Roma City Bisogna fare attenzione ai possibili contropiedi perché il Roma City ha dimostrato di saper sfruttare molto queste situazioni parte direttamente in porta, para senza problemi, Barone la tiene Murati centralmente verso il numero 27 Proia che allarga col Mancino sull'out di sinistra prova a salire la Samb si difende il Roma City vanno a terra in due, attenzione a Poi Pisano che recupera Palla di Akite, libera l'era di rigore può giocare ancora la Samb Proiava col Mancino palla altissima sulla traversa due volte di Akite a salvare dalla Samb attenzione alla Roma City che si distende in avanti non ci arriva Murati attenzione a Rasi, buona la chance si allarga Raffini Rasi col Mancino conclusione da dimenticare di Rasi Meo, guadagna metri poi Zammarchi indietreggia torna da Pisano Palla dentro per Raffini è buona in arredigore Raffini il dribbling poi Rasi al volo Marone si distende sulla sua sinistra palla in calcio d'angolo parte del pallone in arredigore viene allontanato poi Rasi lo tocca non c'è spazio per il contropiede ancora San Benedettese Viscardi parte il cross colpo di testa la traversa colpita da vita ancora il numero 8 che poi prova a liberarsi di un giocatore avversario il tiro di Akite palla sul fondo può andare allora alla rimessa in gioco tocca di Akite arriva il duplice fischio squadre negli spogliatoi 0-0 il parziale tra Roma City e San Benedettese laccio col Mancino palla lunga rimbalza il pallone poi ci prova palla alta Marras col Mancino approvato laccio col Mancino per la corsa di Zammarchi Marone torna in porta Zammarchi è velocissimo in treno di rigore Zammarchi palla sull'esterno della rete Murati poi con Son arpiona bene il pallone la difesa del Roma City la riconquista di nuovo però la Zamm è buona l'azione attenzione a Progna sulla destra Progna il tiro Barone Mancino lungo a cercare vita palla che rimbalza la riconquista all'undici prova a puntare Franco attenzione a vita in era di rigore viene spinto da Franco poi il cross palla che resta in era di rigore qualche modo il Roma City la allontana poi ancora Maras nello stretto va via Maras davanti a Barone non sbaglia Maras fa 1 a 0 per la San Benedettese la firma di Maras che porta avanti gli ospiti al minuto numero 61 e allora Matteucci riconquista ancora la San Benedettese il lancio per vita c'è spazio per lui posizione regolare punta di Aghite vita ancora prova a arrivare fine in rete di rigore arriva Proia da dietro il tiro di Proia il raddoppio immediato della San Benedettese con Proia che batte ancora Barone è 2 a 0 per gli ospiti Pisano palla nel mucchio di Aghite poi rimbalza viene allontanata dalla difesa della San Benedettese non ci arriva Meo alla fine ci va di nuovo di testa attenzione ancora la Samba con Proia lancio lungo posizione regolare arriva Vita sulla otto di sinistra ancora il numero 11 per il compagno ancora Maras dentro per Vita che è da lì non può sbagliare posizione regolare è 3 a 0 San Benedettese la firma di Vita vediamo se riuscirà a muovere qualcosa il Roma City Napoleoni palla dentro Perroni le triangolo ancora Napoleoni all'indietro la botta tentata da Cabella palla alta sulla traversa difesa da Marone palla per Manoni che va centralmente da Cabella c'è spazio per Rea viene servito in questo istante al 17 il controllo è buono Rea palla dentro arriva Napoleoni se la porta sul fondo oggi gara sicuramente da dimenticare arriva il triplice fischio finisce qua San Benedettese vince 3 a 0 sul Roma City al Riano Athletic Center conquista tre punti fondamentali per la propria corsa salvezza Roma City che invece resta inchiodato a quota 29